Ciao, benvenuto a questo video di Travel Coaching. Sono in una delle spiagge più lunghe d'Irlanda, un luogo dove d'estate viene ai turisti, oggi è gennaio, 20 gennaio è deserto, semi-deserto. In questo luogo così ricco di energia, come puoi sentire anche dal rumore del mare che copre forse anche un po' le mie parole, voglio parlarti del valore della diversità. In Travel Coaching uno dei punti fondamentali è quello di incontrare luoghi diversi, luoghi che vanno ad attivare parti diverse di idee. E come sarebbe dare un nome ad ogni luogo, o meglio dare un nome all'incontro che scaturisce con questo luogo. Prova a immaginare allora di partire per il tuo viaggio e di creare un viaggio dove ogni giorno vai a visitare luoghi che stimano in te la fuoriuscita di parti completamente diversi. Quindi magari un giorno vai in un luogo dove c'è il mare, con un sacco di rumore e ascolti cosa accade in te a contatto con questo suono e poi magari vai in mezzo alla campagna nel silenzio più assoluto. Ma vai e ci stai, ci stai con tutta te stessa, stai con quello che c'è e da quello che c'è vedi se scaturiscono delle parole. Parole che alla fine del viaggio comporranno una poesia, una poesia fatta diversi di parole, di paesaggi diversi che in realtà non fanno altro che fare parte del tutt'uno unico e della tonicità. Un abbraccio dalla tua Travel Coach. Ciao!